Quest'anno l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Biella può finalmente annunciare la ripartenza del progetto a meglio occhi. Dopo più di un anno di pausa a causa della pandemia e delle restrizioni da Covid-19, l'importante campagna che si occupa di realizzare visite oculistiche di prevenzione per i bambini delle scuole di Biella e provincia può cominciare. Sono ormai 20 anni che il progetto viene coltivato e portato avanti, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, della Croce Rossa e grazie al contributo di privati. Come sottolinea il Presidente Adriano Gilberti, i risultati ottenuti gli anni scorsi e l'importanza della prevenzione sono i moventi cardine che stimolano a proseguire con questo grande progetto. Il titolo A me gli occhi è particolarmente evocativo, vi si può estrapolare una duplice lettura. La necessità di sensibilizzare sulla salute della vista e degli occhi, che non è da sottovalutare, ma soprattutto dare maggiore considerazione e rilevanza alla prevenzione di cecità, ipovedenza e problemi oculistici. Tali difficoltà, infatti, sono più diffuse di quanto si possa pensare. In Italia si stimano attualmente poco meno di 2 milioni di persone con disabilità visiva. Il 78% della popolazione italiana, invece, ha difetti visivi e spesso non si sottopone a controlli adeguati, ma rimanda al check-up solo quando si presentano i primi sintomi gravi. Ma a quel punto il danno è fatto. Per evitare che la salute degli occhi degeneri e si arrivi a patologie serie e invalidanti, è importante fare prevenzione. In particolare, è fondamentale attivarla per i più piccoli. I danni a carico dell'apparato visivo che si verificano in età pediatrica sono spesso totalmente o parzialmente recuperabili, soltanto grazie a un tempestivo e mirato controllo oculistico e a un appropriato trattamento riabilitativo. Non sempre è possibile accorgersi se i bambini presentano problemi di vista. È quindi importante sottoporli ad una curata visita sin dai primi anni di vita, al fine di poter evitare gravi deficit e malattie con conseguenze irreversibili.